Un lato dove cerco di migliorare è sicuramente durante i 90 minuti tenere un atteggiamento costante, ovvero un atteggiamento sempre positivo, sapere quando magari fare la corsa in più, quando fare la corsa in meno, quando fare l'inserimento oppure rimanere in copertura. Poi la fase difensiva, i movimenti senza paura, ogni giorno cerco di migliorare. Credo che c'era in corso questa trattativa per venire qua a Perugia, quindi anche lui mi ha parlato, mi ha parlato di una piazza veramente calda, di un tipo eccezionale, di una piazza dove si fa del percalcio, quindi mi ha parlato di tutti gli aspetti positivi e infatti non ho aspettato tempo e ho chiesto subito di venire qua, anche grazie alle parole di Mr. Buch. A livello personale ho giocato molto l'anno scorso, quindi ho sicuramente imparato anche le varie partite in Serie B, che è un campionato tosto dove non bisogna mollare, dove ogni giornata è difficile portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda la domanda sul ruolo del trequartista, ci stiamo conoscendo, sia io che lo staff, quindi il Mr. deciderà lui dove mettermi e dove mi retenere. A proposito di modelli, abbiamo sentito che il modello di Banninelli, anzi il tuo modello quale potrebbe essere? Quale giocatore ti senti più simile e invece quello che ti piace di più? Mario. 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 Anche Elena Dowski, mi piace molto. Invece per Banninelli volevo sapere tutte le sensazioni del gol a Curi. Le sensazioni quando uno fa gol sono sempre positive. Sicuramente fare un gol sotto la curva è sempre un'emozione. Spero di farne alti quando lo stadio è pieno che sicuramente troverò emozioni importanti. Tu te la senti per caratteristiche e strutture di supportare eventualmente se giochi a tre davanti? Il ruolo di centravanti boa o ti senti più adatto ad avere un centravanti accanto in un modulo a due punte? Il ruolo per me è uguale. Se gioco per me è sempre un onore per giocare per il Perugia è buono. Nessuna preferenza? Sì, per me due è meglio un po'. Ma vicino alla prima punta o come prima punta? La prima punta o come prima punta. Grazie. Grazie.